Siamo qui in un nuovo video di Crash Royale e come potete vedere sono arrivato in Arena 8 Allora questo è il replay Sono arrivato in Arena 8 E lo guardiamo subito, mi sembra che sia questo Sì è questo Vado subito a vedere Allora Sono salto? Sono salto ragazzi Allora Mi ha un po' là Se lui giochi un mastino Cioè Lui Fa un po' il Duro Mi fa un po' Posso dire Mi fa cuore Mi fa cuocere la Mi la fa cucinare La come si chiama La vittoria Nel 8 Ma poi lui mi sa che me lo fa Arrivare in Arena Cioè mi fa arrivare E mi dice 8 game o 7 Perché mi sono detto 8 Ora fa Duro Nessuno sta lì A Ciarlattare Di qui mi metto I arcieri Mi mette L'or Di sgarri Lui mi metto Lui mi metto Lui mi metto Lui mi metto Mastinoso Mastinoso Sì Allora scusa Perché sono qui A prepararmi Per la notte Quindi Vedete che mi metto Sare Perché mi sto preparando Per la notte Non perché Non per un ira altro Vai Allora Il fiamma Però si distrugge Vero Tanto non è che Il fiamma Ci fa 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 ma è tanto danno Mi metto quello la, quello la varile la mi sembra che questo video sia o il secondo appena a Jonathan perché il carico si vuole nel stesso momento perché prima o dopo ci sarà un un altro video perché avete fatti bravi allora ragazzi questo se per questo mazzo potete fare l'arena 4 ed è una cosa anzi dall'arena c'è la scarica questo mazzo fa grillare i grilli possiamo anche unicato è che credo che sia il poggiatore o questo vedete intanto c'è la batteria scarica poi in fretta poi il cosa qui ragazzi un amico mi ha detto che se fai la sfida della rete che qua noi troppo ci arriviamo però sarà già finita voi potete vedere lo scrivete lo scrivete nei commenti sotto nei commenti e mi ha detto che si vede la prossima carta che è solo i 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